Ok, ciao a tutti, venuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi mi truccherò in base ai segni zodiacali, non so se è un personaggio Disney, perché farò diversi geni, questo video sia sul segno zodiacale, make-up, vestiti, eccetera, nel frattempo mi leggo i capelli, ma molti saranno dedicati a Disney, perché proveremo diversi siti, alcuni sono cattivi, altri sono principesse, altri sono creature di animali, alcuni da Istengam e altri invece da altri siti. Tipo, oggi voglio provare quello di Luca Sciano, tipo ho cercato Disney e segni zodiacali, non vedrete niente, dopo me lo punto in faccia, e ho scelto che personaggio Disney sia in base al tuo segno zodiacale, appunto, io essendo nato il 4 gennaio sono capricorno, eppure il mio ascendente è capricorno, io sono perfetta, infatti sono una testona. Allora, andando giù, Capricorno è 1.10, ed è... Le donne del Capricorno sono responsabili e lottano per ottenere ciò che vogliono, come la principessa Tiana, ovviamente la principessa da un occhio, che svolge due diversi lavori per realizzare il suo sogno di aprire un suo ristorante. Ok, Tiana è una principessa che mi piace abbastanza, non la mia preferita in assoluto, però è una di quelle che più adoro, e invece il principe lo detestavo, ma ammino una testa che... L'avrei tirato una testata io, non so come ho fatto a sopportarlo, si è messo un po' la testa a posto solo alla fine, ed è anche uno dei principi più brutti che ci sia fra tutti, una faccia che proprio detesto. Tiana poteva mirare più in alto. Allora, io devo mettermi lo schermo bianco, ovviamente c'è una pubblicità di tre ore. Allora, come sempre, partirò dalla base, cerco di mettere uno schermo bianco, così da sembrare un po' meno cadaverica, ma è una cosa quasi impossibile, non è infatti impossibile, aspettate. No, ci vediamo quando l'ho sistemato. Ok, l'ho sistemato, spero che voi non lo vediate, e sarete col vestito lì, perché devo sistemarlo e forse ci farò anche un video quando avrò tutte le cose, lo renderò un po' più figo. Allora, parto dalla base, quindi metto una crema, io uso oggi questa di Avant, delle bozze di Look Fantastic, che non mi arriveranno più per due motivi. Il primo, di certo, da puntino quale venire più, perché per un po' ne ho di prodotti, e poi anche perché non è che abbiano avuto chissà quanto gran successo i video di Look Fantastic, e quindi niente, magari poi più avanti molto più avanti, però di altre bozze, di altre marche, quando avrò quasi finito queste. Tipo, una forse sarà, ma una sola tipo di, aiuto, Pink Panda. Ok, metto la crema, sì, questa è anche la crema sola, è tipo all'interno, una minima ovviamente. Allora, io come sempre parto dagli occhi, adesso, genio, non ho la foto della principessa Tiana, quindi vado a memoria. Lei aveva un trucco molto semplice, mi ricordo, persino nel video in cui, diciamo, festeggiava, e di, ecco, cantare la canzone sul suo sogno, non aveva un trucco esagerato, quindi io direi di andare sugli occhi, su un verdino, perché appunto, il suo abito, del matrimonio, non del matrimonio, sì, del matrimonio, sì, del matrimonio, chiamiamolo, è verde, è quasi stato per quasi tutto il cartone, una lana, quindi, guarda. Vado a mettere una base, cercando di non mettermela nell'occhio, perché, sapete che, non mi zucco da un po', specialmente, di solito non metto la base, perché, tipo, mi zucco per, cinque minuti. Ok. Aspettate. Ok. Mio fratello mi chiama sempre, nei momenti peggiori. Se lo si, gli ho staccato in faccia, se provano di chiamarmi, lo uccido. O si chiama mamma? Può chiamare qualcun altro? Ok. Vero che quando sono con lui, non mi chiama mai. Ho detto verde, adesso però devo vedere se io ho il verde, se no farò un trucco, molto sobrio. Allora, qua no, ho tutti i colori, ma non il verde. Perché la palette in cui avevo tutti i colori, ormai è andata a buttarla. Qua c'ho la mia palette di viola, no, qua c'ho il rosa e il marrone. Allora, a sto punto io direi di andare allora sul soft, come faceva sempre. Non ho verde. Come faccio a non avere verde? Devo ricomparmi una palette con cose colorate. Ma lo farò più antes. Il fatto è che non lo compro perché, tipo, lo usei raramente, giusto magari per qualche video, perché io di solito faccio appunto trucchi molto soft, ma non c'è di solito. Allora, vado, vabbè, metto questo colore molto chiaro, che non so il nome perché l'ho perso. Ho perso il pezzo di plastica che c'è sopra. Lo metto all'inizio. Poi vado a usare questo che, se non sbaglio, si chiamava caffè latte, tipo, non so neanche che colore è il caffè latte. Io non bevo il caffè. lo metto molto ovviamente anche questo leggeo perché, come ho detto, lei lo tendeva molto a non essere tanto vistoso il suo trucco. E poi vado con questo più scuro che era... non mi ricordo forse... non mi ricordo il nome. Lo vado a mettere ancora più sull'esterno. Quindi praticamente ho fatto una mini sumatura da più chiaro scusa e vado a... ecco, sì, cioè, aspettate che non ce l'ho più netta, ok? Sumare. Come fare una chiusura, diciamo? Allora, se vi indetto un po' fai, perché sto problema... ho un po' il problema con gli occhi. Perché io, d'estate, ho sempre problemi con gli occhi, in primo mese. Non ho ancora capito perché. Perché poi passa, ad agosto che fa più caldo non mi danno problemi per niente. Ma non sono allergica a niente che ci sia in questo periodo. cioè, io sono allergica a l'eucalipto. Qua l'eucalipto non c'è. Lo vado ad assumare anche qua. Ok. Vado a portare di sumo e bene a litigare. Ah no, litigherò dopo che tu chi. Assume con un altro pennello. Le line. Andiamo al mio cerimo nemico. Prima di tutto lo so, perché non lo so più da mezzo secolo. perché ci ritiro, certo. Trovato. Penso di metterci di più. Vado a fare una linea molto molto scettile. Ok. Io detesto mettere le line. bene, aspettate che c'è questo tutto. Ok. Ok, buon perché, come ho detto, non va... Cioè, devo finire un attimo qua. Ok. Vado a fare la codina. Se non ci metto ore e non finisco. Ok. Io litigo sempre la codina e mi viene bene... Cioè, mi vengono bene in tambe, ma in direzioni diverse. Ok, come capire se... Aiuto. Sare sta mettendo le line nel nostro video perché sta zitta e perché tieni gli occhi chiudi. Perché sennò questo si rovina. Quindi mezzo secondo me. Ok. Ok. Perché io... Vabbè, non importa. Il mascara. Anche questo. Dove l'ho citato? Qua. Non è al suo posto. Infatti ne lo trovo. Non vado a mettere davvero poco e non vado a mettere ciglia finte. Perché non lo so, tieni a me è sempre sembrata una principessa... Aiuto. Come si può dire? Che non tende a esagire. Tipo, se dovessi fare la sua amica a mettere i tre quintali di trucco, ciglia finte, di quelle voluminosissime. Ma lei mi è sempre sembrata una principessa che ha un po' i piedi per terra, lotta per quello desidera e non va mai nell'eccesso. Non lo so, vabbè. Adesso andiamo a fargliere questa pelle. Vado a mettere questo ondo tinta che è quello che di solito uso ad agosto quando finalmente mi sono abbronzata un minimo. E quindi vado a mettere un po' più scuro perché appunto Tiana è una principessa con la pelle scura. Ovviamente non metterò mai il suo vero colore perché... Oltre che non c'è... No, forse ce l'ho sotto nelle palette di mia madre, quelle palette in cui hanno tutti i colori. Però... Cioè... Un conto, scusi, su un po' la pelle, un conto è falsare tutto. Magari ditemi se poi volete un video in cui mi trucco totalmente da lei. Allora, di solito non lo metto così, ma oggi sono abbastanza pigra, poi dopo mi devo anche andare a fare la doccia, quindi... E bello, quando mi trucco da sola mi trucco una mania perfetta. Se devo fare un video divento schifoce. Ok, di solito faccio così, tipo metto a pari puntini. Fa un caldo bestiale, ma per futuro mi viene in una casa vecchia o in un'impietra che quindi fanno stare un po' più freschi. Infatti, di solito, io tengo le finestre chiuse solo di notte le apro, tipo. ma neanche, non sempre. Le tengo chiuse perché se apro specialmente a quest'ora che è abbastanza presto, cioè non mi ricordo l'ora, ma sono le... 3.52, quindi... non l'ora più calda, ma quasi, si crepa. Ma crepa tanto e quindi io prefisco stare così. ok? Ok. io dovrei avere un altro, un correttore, eccolo, un correttore, che è... l'ho preso molto, troppo oscuro. Ma tanto troppo. Eccolo. Credete, è più scuro del fondotinta. E quindi vado a scurire alcune parti con questo, perché tanto non ho tanti brufoli, quindi sono stati quasi tutti coperti dal fondotinta. Vado a prenderlo, quello che è molto scuro. Non so se si vede. E questo sarebbe un 101 light. Io l'ho preso perché avevo detto ah, sì, light. Vado a metterlo qua. Un po' lo sasto. Ma non importa. Quickly. Poi vado a scurire un po' il naso. Qua, dove devo fare poi il contouring, almeno è già più scuro. Ok. Adesso io devo andare a cercare, quindi per un po' sparare la luce, com'era il viso di Chiara, perché non mi ricordo, cioè era magro, ma non mi ricordo se era infossato o meno. Perché non vedeva il principio, se era un occhio da un secolo. Un po' mi manca darlo però, col quarto anno non è che ho avuto molto tempo per guardarmi i film. Il prossimo anno non so come farò. e poi dovevo anche adesso guardare per altri film e leggere alcuni libri. Mi sono visto per togliere Disney Plus quindi mi sa che lo guarderò tipo adesso. Ecco, ditemi se volete un video sulla mia pagella, perché non ho fatto il video sulla mia pagella. Dite se volete la pagella del quattro anno di scienza umane. Ecco, quello che non mi piaceva tanto è questo fondotinta che non si stendeva bene e soprattutto nelle foto dal vivo non si vede molto ma nelle foto si vedeva in una maniera infatti sembra che abbia le linee bianche invece nella realtà non ci sono cioè non si vedono così ma non importa. Allora stacco un attimo la luce bianca quindi mi vedete un po' più scura. Scusate. Allora Principessa Tiana Principessa Tiana Sarà un video un po' lungo ma vabbè Di nuovo mio fratello scusate Allora Ok, sì, vabbè avevo un neo in alcune foto un te e un altro no 12 d'arte che pettinato da fare ma crederò che terzo questa semplice ok, vabbè lei aveva la fossetta che io ovviamente non c'ho e non avevo viso un po' tipo gli zigomi molto alti ce l'ho fatta a dire lo zigomi molto alti è una cosa molto complicata da dire lo so allora quindi gli zigomi alti andiamo a prendere il mio a fare la terra che anche questa devo cambiarla e vado e vado a fare il contouring invece che qua in basso qua così d'altare ancora di più gli zigomi poi nella foto ho visto che usa tipo un fad rosato per in quella foto lo usavo così quindi vado a prendere questo di Kiko che è un rosato un po' scuro e ovviamente vado a mettere in alto poco perché diceva davvero poco illuminante vado a usare appunto uno scuro perché lei ce l'ho scuro sì non ho messo la cipria ma perché come ho detto tra poco come dovevo fare la doccia e in più per me la cipria un po' passiva cioè era troppo chiaro ok un po' di qua un po' poi ops la forsetta non so come farla quindi non la farò aspetta ahah no non c'ho la forse rossetto ne aveva uno rosato un po' sul rosso ma non troppo allora io ho questo rosso scuro aspettate a dare di nuovo a vedere una foto se vuoi vedere se almeno in uno aveva il rossetto scuro no non ho sempre un marrone con l'interno un po' di rosso quindi mi viene più facile per i marroni che ho questo qui che ho rovinato perché mi è caduto che è di revolution se infatti evolution vado a metterlo ok con il fatto che si è rovinato mettono una tragedia e poi vado a prendere con la mano ok non so perché mi si è creato questa luce vabbè lasciamo stare tanto oggi non è la mia giornata vado a prendere un po' di questo rosso e adentolo centralmente ok ok poi lei in quasi tutti ha un cioè quando si sposa ha raccolto in alto quindi aspettate vado a scioglierlo farò con le taccine ovviamente vado a raccoglierlo in alto viva gli elastici ho appena presi ok forse era meglio se mi tenevo la coda bassa che faceva quando lavorava mi era più facile ok sì e poi vediamo non credo che ci entra vogliamo andiamo a rammarire sì chi sta ok io sto praticando una marea ce l'ho fatta non so neanche io come non chiedete una prendo un altro elasticone dobbè vado a fare il puccio classico non so come spiegarlo tanto dopo sicuramente sì dopo questo video uscire un video sul pettinato in cui ve lo faccio vedere bene quindi lo so c'è un po' da schifo ma perché intanto poi questo non lo vedete come viene farlo con le taccine è una difficoltà enorme ovviamente come sempre dovrei andare a raccoglierle intorno come per fare i puccio normali e le forcine ovviamente non so dove siano vado a bloccare con questo solo perché appunto non trovo le forcine adesso le cercherò per fare il video infatti quindi non vedete quindi li ho raccolti su li faccio un po' più allungato ma io non ci riesco vestito dove cambiarmi ma non c'ho voglia quindi rimando in pigiama ok aiuto cercherò di fare una copertina decente spero probabilmente cerco una foto di Tiana e metterò Tiana bene spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciate un piaccio iscriviti al canale e attivate la campanellina per dei tantissimi altri video sia di questo genere che di pettinatura che di vlog tantissimi vlog solitamente anche se questa estate non esco come volevo ciao